Il punto vero è che non bisogna mai rimanere superficiali, andare sempre ad approfondire, avere una propria consapevolezza, una propria coscienza e non fermarsi a chi ti dice una cosa dandotela per vera. Il sentito dire è una cosa che non sopporto e quindi l'ambizione delle persone è proprio quella di, e dei ragazzi, di approfondire, di mettersi in ascolto e questo è il coraggio secondo me che devono avere i giovani oggi, non fermarsi a un telefonino, a uno schermo, ma avere anche un rapporto umano perché serve l'uno e serve l'altro. Sono Gianmarco Barluzzi in arte Giassa e vi do il benvenuto a Podcast. In questa edizione speciale intraprenderemo un viaggio insieme ai protagonisti di questa tornata elettorale. Scopriremo le loro storie, le loro idee e la passione che li muove. Siete pronti a immergervi in queste storie? Allacciate le cinture, Podcast sta per iniziare. Benvenuti a Podcast, il podcast di TAC. Siamo qui con Ilaria Bugetti, benvenuta. Grazie, benvenuti a voi. Tu sei una candidata a sindaca di Prato. Già, è vero. Raccontaci in 30 secondi chi sei. Sono Ilaria Bugetti, sono laureata in scienze politiche, sono stata per dieci anni sindaca di Cantagallo, per nove anni consigliere regionale della Toscana, ho una figlia, una bellissima famiglia, sono nata a Carmiglianello, ora abito a Prato ormai da 12 anni, ricercatrice in scienze politiche, mi sono laureata appunto in scienze politiche e ho fatto la ricercatrice fino a quando non ho fatto il sindaco. Ecco, allora torniamo a ritroso, partiamo dalle tue origini, mi raccontavi Cantagallo? Le origini di Cantagallo sono nata in questa frazione che è Carmiglianello, a cui sono ancora molto legata, sai, le radici, e lì ho vissuto questa infanzia e questa adolescenza molto bella, perché in un luogo ancora dove esisteva il vicinato, i vicini erano la tua grande famiglia, insieme alla tua famiglia, quindi io ho vissuto all'aria aperta, giocavo con le mie amiche e gli amici che abitavano vicino a noi, stavamo fuori dalla mattina alla sera e quindi ricordo che la nonna che la sera mi chiamava per andare a cena con questa voce d'aria, sapevo che era l'ora di cena, ma ero stata tutto il giorno fuori a giocare. Ecco, ma lavorativamente nella tua famiglia cosa si respirava? Io sono stata fortunata perché sono figlia di due artigiani, mio babbo fa legname, con il laboratorio sotto casa, la mamma sarta, lavorava in casa e quindi due persone abituate a creare con le proprie mani, quindi ho vissuto in questo clima, è molto bello, io vivevo, andavo a curiosare nel laboratorio del mio babbo con tutte le paste, le vernici, gli stucchi e vedevo questi legni che diventavano tavoli, persiane, porte e mia mamma che da un pezzo di stoffa faceva diventare un vestito bellissimo. E dai tuoi genitori hai appreso poi un mestiere, che vuole è stato il tuo primo lavoro, sei andata in controtendenza o invece hai assecondato? Sono andata in controtendenza nel senso che la mia famiglia ci teneva che io studiassi e quindi mi sono laureata, sono stata a loro orgoglio che quando mi sono laureata sia mio babbo che mia mamma erano emozionati e piangevano per questa cosa e quindi insomma il mio studio in scienze politiche, però nella realtà ho vissuto anche la politica in casa perché sia mio babbo che mia mamma sono sempre stati dei grandi appassionati di politica, mio babbo aveva fatto il consigliere comunale a Cantagallo e quindi persone impegnate non solo nel proprio lavoro ma anche nella comunità, quindi io parlavo di politica a pranzo, si sentiva al telegiornale, quindi ero in un ambiente in cui di politica se ne parlava. E dal momento in cui hai finito l'università come sei arrivata poi a dove sei ora? Qual è stato il percorso? Ma allora io ho iniziato l'università e ho cominciato a lavorare perché l'idea di dover gravare meno sulla mia famiglia era un qualcosa che per me era importante, quindi ho cominciato a fare un lavoro, vendevo prodotto a domicilio, poi ho fatto il corso per amministratore condominiale e ho gestito anche alcuni condomini. Nel frattempo mi ero laureata e avevo iniziato a fare la ricercatrice universitaria, quindi una union research, nell'attesa di un dottorato. A un certo punto il bivio mi hanno chiesto di, io ero già assessora a Cantagallo, ma mi hanno chiesto di candidarmi a sindaco di Cantagallo e lì ho dovuto scegliere o l'uno o l'altro e la passione per la politica mi ha portato a scegliere il sindaco di Cantagallo e quindi da lì è iniziato, con la pia illusione che potessi fare la sindaca di Cantagallo continuando a studiare, quindi continuando gli studi. Una roba che è durata due mesi e poi è finita perché non c'è al tempo, lo devi fare 24 ore al giorno. Una cosa quando la fai? Quando la fai devi far quello. Ecco, durante un percorso di questo tipo hai avuto delle figure di riferimento, un modello a cui ti riferivi? Ma allora i modelli sono tanti nella vita perché io sono dell'idea che bisogna prendere da tutte le persone che incontri nella strada, ognuno ha un messaggio da darti e che tu puoi introitare dentro di te. Siamo un po' la sommatora di tutte le persone che abbiamo incontrato, quindi sicuramente la prima è il valore che mi hanno insegnato i miei genitori, quindi della fatica, del fatto che non bisogna mai risparmiarsi, ma che bisogna stare attenti anche a pensare agli altri. E poi le persone della comunità di Cantagallo, quindi il partito, il comune di Cantagallo, il sindaco predecessore Riccardo Turchi e tutte quelle persone che ho incontrato, i miei professori del liceo, sono state persone, con alcuni di questi mi sento ancora, sono ancora amici, quindi ho un po' ognuno di questi ha provato a darmi un messaggio affinché potessi credere in me stessa e questa è una cosa molto bella che mi ha insegnato molto. Quindi te ti sei fatta ispirare, ma a tua volta ti chiedo, se vuoi dare un consiglio a un giovane, perché qui parliamo anche di rivolte a coloro che vogliono crescere, vogliono innovare, vogliono farsi ispirare, ecco tu cosa consiglieresti a loro? Per esempio un libro che ti ha cambiato, un podcast che hai ascoltato, un film, hai qualcosa che ti piacerebbe trasmettere? Il grande dittatore è un discorso che io ascoltavo spesso, che è una cosa molto bella, che ogni tanto secondo me andrebbe riascoltata, perché lì c'è un Charlie Chaplin meraviglioso che parla di umanità, quindi il consiglio che io posso dare, al di là dei libri, perché anche i libri ce ne possono essere tantissimi, ma il punto vero è che non bisogna mai rimanere superficiali, andare sempre ad approfondire, avere una propria consapevolezza, una propria coscienza e non fermarsi a chi ti dice una cosa dandotela per vera, il sentito dire è una cosa che non sopporto e quindi l'ambizione delle persone è proprio quella di, e dei ragazzi, di approfondire, di mettersi in ascolto e questo è il coraggio secondo me che devono avere i giovani oggi, non fermarsi a un telefonino, a uno schermo, ma avere anche un rapporto umano, perché serve l'uno e serve l'altro. Visto che stai dando un consiglio a qualcun altro, ma se tu potessi tornare indietro alla macchina del tempo e dare un consiglio a te, quando magari eri nei banchi di scuola, alle superiori? Beh, io ero molto molto timida, tanto timida, avevo davvero un timore per qualsiasi cosa, avevo timore a parlare in pubblico, avevo timore a rapportarmi con le persone e probabilmente il consiglio che posso dare è di credere in se stessi e di non avere timidezza e questo è forse uno dei consigli che posso dare, perché a me stessa io, insomma, l'ho dato troppo tardi e ho cercato di lavorarci solo dopo, e invece questo blocco della timidezza che è un tratto caratteriale, quindi provare a rimanere sempre un passo indietro perché ha paura di far del male a qualcuno, è un qualcosa che mi ha distinto poi nella mia vita, un po' ce l'ho ancora, ogni tanto ci provo a dire no, stiamo fermi, stiamo calmi, quando invece a volte c'è bisogno di essere più decisi, però insomma poi l'ho dimostrato passo per passo, io tutto quello che ho fatto l'ho battagliato, con la gente per fortuna, perché ho avuto tanta gente che mi ha dato affetto e che mi è stata affianco. Ecco, se posso uscire un po' entrare nel personale, ecco, questo è stato un lavoro interno tua che hai fatto nel tempo, ti sei conosciuta, hai fatto un percorso, ecco, nel tempo ci sono stati dei punti. Non bisogna mai aver paura di fare percorsi con se stessi, anche di farsi aiutare, mai aver paura, perché è una grande forza, mai temere che ci siano delle debolezze, perché le debolezze fanno parte dell'essere umano, le devi affrontare, le devi superare, mai cedere alla parte, come dire, a ributtare sugli altri quelle che sono cose tue, ti devi fermare un attimo, riflettere e ripartire, e questa è la forza dell'essere umano, e poi c'è una cosa che vale, è un principio per tutti, il bene porta al bene, e quindi noi tutti siamo nati perché si vuole star bene ad essere felici, e quindi quando questo non c'è ti devi fermare e domandarti perché no, e sciogliere i nodi, sembra semplice ma non lo è. Comunque mi hai colpito, e per l'appunto ti chiedo, ci sono stati dei momenti in cui invece hai trovato difficoltà e poi da quelle difficoltà hai trovato una nuova forza? Sempre. Io penso sempre che quando c'è una difficoltà tu devi trarne un vantaggio, si chiama esperienza, e quindi devi sempre trasformare un qualcosa che può sembrare brutto in una cosa bella, perché si rigenera tutto, un po' come il prato, si rigenera, l'essere umano si deve rigenerare, è quella la spinta fondamentale, il sapersi rigenerare e dare positività, perché siamo fatti un po' per questo, se ti arrendi alla paura e ti chiudi in te stesso è un qualcosa che non fa bene non solo a te stesso, ma anche alla comunità, e quindi tutte le volte che hai una difficoltà ti devi prendere il tempo per comprenderla, perché è intelligenza farlo, ma ti devi anche prendere poi il riscatto di dire come posso trovare qualcosa di buono in tutto questo. Questo è l'atteggiamento che vale per tutti, per tutti, dai ragazzi, dagli adulti, nei luoghi di lavoro, in politica, nelle associazioni, è l'atteggiamento di una persona matura che prova a tenere dentro di sé tante cose e a trasformarle in qualcosa di buono. Grazie Ilaria, grazie a voi, nel tuo tempo e grazie a chi è stato con noi, per Podcast, alla prossima puntata. Ciao a tutti. Podcast, il podcast di TAC, da un'idea di Gianmarco Berluzzi, riprese in regia audio video di Lorenzo Guasti. Ascolta Podcast sulla tua piattaforma di ascolto preferita e segui tutte le novità su podcast.it e sui nostri social.